La cosa che mi piace di più del mio corpo è il colore, della mia personalità i diversi strati, la mezza aerea, bimba, permalosa. Nell'Africa mi manca il profumo della sabbia, appena scendi dall'aeroporto, i miei nonni, le persone, ma non esiste una parte italiana e una parte africana, tutto un insieme di culture, di esistenza, di esperienze e mi piacciono tutte e due. Ci sono tanti traguardi ancora, la stagione, sperare di poter giocare. Le Olimpiadi sono una parte nascosta della mente, non è ancora ora di pensarci.